E' un corso biennale di alta formazione per la gestione di strutture turistico-ricettive e quello al Battisti di Fano è l'unico nella regione Marche. Si tratta di un progetto riconosciuto a livello europeo ideato dalla Fondazione ITS, l'organismo che comprende scuole, università e denti pubblici, e presentato questa mattina nell'Aula Magna della Scuola Fanese, l'istituto Capofila, dove a fine ottobre ha preso il via questo primo corso di studi. Un corso post diploma appunto per ragazzi già usciti dalla scuola superiore ma che magari non vogliono percorrere il percorso di studi universitari, vogliono trovare una strada più breve per potersi inserire nel mondo del lavoro. 129 sono state le domande di iscrizione ma solo 23 sono gli alunni selezionati perché il Battisti per ora ha potuto attivare soltanto una classe. Per avviare due corsi la direzione dell'istituto spera in un finanziamento. Questo corso per come è stato pensato e anche per la presenza di diverse imprese all'interno sicuramente dà la possibilità ai diplomati di farsi una formazione più specifica, di prendere contatto reale col mondo del lavoro e magari anche di trovare immediatamente un'opportunità. Tra l'altro il Ministero e queste istituzioni private come la fondazione che abbiamo presentato questa mattina le finanzia soltanto se c'è un alto indice di occupazione e quindi se non ci sarà occupazione da parte dei ragazzi che faranno questi corsi poi verrà chiusa, quindi è un'esperienza che ha in sé anche una meritocrazia che secondo me è molto importante. ConfCommercio è partner dell'iniziativa, perché crede in questo progetto? Perché crediamo che il turismo sia la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia. Abbiamo investito perché crediamo che sia necessario, come peraltro dice anche la Regione Marche, elevare la qualità professionale di chi vuole operare nel turismo.